E ora mi chiamiamo Elena. Martin, Edna. C'è? La sua. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi, pensare come voi. Oshè, ma com'è facendo? La sua stessa. Ho riflettuto molto su me stesso. E ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava. a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Quale gente viene a lavorare? Ti stai affaticando troppo? Fassi rotto mio. Questi libri non hai mani, chiedono. Ma a me non sai che parte se le apri una libra. Io non l'ho mai amato. Allora parliamo insieme. Ci sono amicizie importanti. Una bella raccomandazione. Non è che a Magnavolene ti sento da fatica con te. No, ma quando scrivi sei troppo crudo. Tu vorresti che io togliessi tutte le cose brutte che scrivo, che tessi una speranza. Quanti ne vedi morire di fame, finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia. Prima dovrei vergognarli a raccontare tutto questo. A signorina Ellen non è proprio te. Noi potremmai essere felici in sé. Noi non ci sposeremo, Martin. Au prez. Noi non ci sposeremo.